Andrea Dal Corso annuncia, sono impegnato con Teresa Cosa sta succedendo tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella in queste ultime ore? Ci sono parecchie ed interessanti novità sui due che continuano ad accendere la curiosità tra i seguaci di Instagram e non solo. A quanto pare Andrea durante una serata in occasione della Festa delle Donne ha scelto di raccontare di aver trascorso la giornata con Teresa e di sentirsi un uomo impegnato. Teresa dà una seconda possibilità al modello. Dopo l'incontro in studio e l'arrivo dei biscottini direttamente a casa della bella napoletana tra i due c'è stato un riavvicinamento e l'ex tronista ha deciso di cedere e di dare una seconda possibilità al modello Veneto. Quindi i due starebbero cercando di ricostruire il rapporto che tra alti e bassi si era creato negli studi Mediaset, chissà se riusciranno a raggiungere l'obiettivo. Ma sarà vero quanto raccontato dal modello? Sembrerebbe proprio di sì dato che una telespettatrice proprio ieri li ha incontrati insieme a Napoli e ha scattato una foto in cui si vedono chiaramente i due e le cose tra loro sembrano andare piuttosto bene. Botta e risposta sui social. Botta e risposta. Si arriva a questa conclusione perché fino a qualche giorno fa i due ragazzi hanno comunicato tramite social con botta e risposta continui per esempio la modella napoletana scriveva, sii forte, sei nata donna e il ragazzo rispondeva sii paziente, sei nato uomo. Adesso proprio da un paio di giorni non c'è più comunicazione social quindi l'ipotesi di riavvicinamenti è sempre più valida e se affiancata alle varie prove raccolte ieri non c'è molto di cui dubitare. Ciao! 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 Ciao!